E' un errore grave di Mantovani, Ibra in area di rigore e Ibra punisce, è tornato dopo la squalifica e è subito assegnato. Ma mette ancora Miccoli sul secondo palo per Mugnoz, pallone che rimane vivo in area di rigore, Mantovani calcia male, poi recupera ancora Mantovani, abate con un miracolo. E' occhio contro il bel del Milan che parte con Robinho, Emanuelsson, Ibraimovic e Noggerino, 4 contro 2, il Palermo è messo come peggio, non potrebbe, Robinho va a cercare Ibra, largissimo Emanuelsson, Ibra aspetta Robinho, poi va da solo, Ibraimovic! E come si è tornato! Emanuelsson prova ad andare da lontano, Ibraimovic a caccia della tripletta, va a cercarla! E la trova! Zlatan Ibraimovic, un mostro al Barbera! C'è larghissimo, Robinho vi chiama palla, quasi la urla, Emanuelsson gliela dà perfetta, Robinho fa la sfonda per Ibraimovic, Ibraimovic, Ibraimovic! Gli scappa via il pallone, diventa buono per il Sharawi, Viviano, in calcio d'angolo! Il Sharawi ripropone il cross per Tiago Silva, che fa 4-0 per il Milan! Piaghi Regarai, dentro per Miccoli, pallone per Barreto, che calcia col sinistro e c'entra in pieno il palo! Ne ha fatti 4 il Milan al Palermo, stratosferico Ibraimovic nel primo tempo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!